devi dare 100 mila euro vedi che una soluzione la troviamo aspettiamo che gli spuso vanno nella stanza davvero noi entriamo in camera e io questa cosa non la farò mai tu l'hai detto 50 mila euro nelle buste che non sapevo facendo una lissino carini però ci hanno fatto pure le bomboniere mogli dobbiamo fare il regalo quanto vuoi allora ragazzi ha scientificamente provato che durante gli europei di calcio le donne tradiscono e quest'anno tradiranno con noi farete le prove con la mia donna sto sognando suonata ma questi sono quelli uomini da marciapiede da cui parlano tutti credimi tu sei carina e ne puoi trovare quanto ne vuoi ma non così dove li trovi torno subito e a prendere l'olio per il massaggio no vado a prendere la cassetta degli attrezzi per rimottarti dopo caprese perché fa freddo no quanto vuoi e ma ricorda ancora se raggata c'ho incontrato con un sorriso luce stella mi son coppa faccio quello è già bella disegnata pareva una luna e non parlava perché noi facciamo sesso a pagamento però pagate voi non noi che figura di magno la musica posa pigliato poste che la scuola e non compagna come sente come pigli in giro